ok dovrebbe essere stava ora sta caricando aspettiamo un po perché saranno lì che stanno ancora facendo le domande a genna quindi mi scrivono un sacco come connettersi siamo siamo dal vivo salve a tutti è partita la diretta per il book pride per la presentazione di tina edito ad aguaplano siamo qui con i curatori matteo meschiari antonio vena che vi parleranno di questo bellissimo balenottero appena uscito che tra poco l'editore davide pairone riuscirà a farci vedere e io sono giorgio della confraternità dell'uva e questa è la presentazione che curiamo per il book pride link la versione che quest'anno diciamo particolarmente sfortunato il festival milanese ha deciso di ha deciso di di portare avanti e potete se siete interessati all'acquisto del libro lo potete acquistare tramite il sito di book pride e passarlo a ritirare in libreria altrimenti tramite il nuovo portale book dealer che è partner del del festival potete acquistarlo in anteprima italiana presso la nostra libreria e dalla prossima settimana in tutte le librerie e davide se hai una copia sottomano sarebbe ci farebbe molto piacere poterlo eccola in anteprima in tutto il suo splendore nelle sue cinesi pagine e che cosa volevo dire se qualcuno ha voglia di partecipare fare domande ai curatori a matteo e ad antonio potete cliccare qui nella chat qui a fianco e vi risponderemo volta per volta io vi saluto e vi auguro una buona presentazione grazie grazie giorgio grazie io voglio ringraziare particolarmente giorgio che si è ha dato la disponibilità per questa anteprima questa presentazione in anteprima di un progetto a cui teniamo veramente molto chiaramente lo sviluppo l'emergenza della pandemia hanno reso impossibile la presentazione dal vivo in libreria e quindi eccoci qui eccoci in streaming a parlare di questo volume che nasce da un progetto che va avanti da più di un anno ormai un progetto la cui destinazione cartacea editoriale come dire è la come dire è il sugello di un di tutto il progetto ma in realtà è qualcosa che deborda dai confini del del libro è qualcosa che ha a che fare con con una serie di parole chiave con una serie di input con una serie di riflessioni che nascono dal web per iniziativa appunto di matteo meschiari di antonio vena che hanno ideato il progetto la grande estinzione ormai più di un anno fa attraverso questo blog dal quale hanno portato hanno come dire iniziato una chiamata alle armi hanno coinvolto una serie di in realtà no non hanno coinvolto non hanno chiamato nessuno hanno semplicemente aperto completamente le porte del loro blog a chiunque volesse partecipare e iniziare a riflettere iniziare a immaginare iniziare a ripensare la letteratura la l'antropologia la filosofia la scienza nel mondo contemporaneo che come sappiamo e come poi è diventato drammaticamente evidente attraversato da una serie di sfide da una serie di complessità che aumentano esponenzialmente di grado in grado ogni giorno in sostanza io da editore in qualità di rappresentante di aguaplano libri ho semplicemente cercato di intercettare questo progetto che mi sembrava veramente importante cruciale in questo periodo storico e quindi il mio ruolo in tutto questo è stato quello di portare alla luce dal punto di vista editoriale fermare su carta un progetto che era appunto nato online ma che aveva comunque come destinazione la carta fin dall'inizio siamo molto contenti del lavoro della realizzazione del lavoro è stato un lavoro complesso ha coinvolto più di 115 autori compresi appunto 54 se non sbaglio illustratori ognuno di loro è stato coinvolto in modo assolutamente libero autosufficiente sono stati proposti loro una serie di scenari una serie di momenti chiave della storia dell'umanità momenti di trasformazione collasso shift tecnologico shift cult culturale di come dire di momenti cruciali di bivi della storia e ognuno di loro è stato chiamato a reinterpretarlo a narrarlo raccontarlo rifletterci sopra e la risposta è stata entusiastica perché moltissimi autori e anche importanti hanno deciso di partecipare ma il libro in sé è dedicato e nominato tina o meglio tina è l'autore collettivo di questo libro quindi i singoli racconti singoli scenari non sono riconducibili a una singola penna una singola testa il lavoro è collettivo e questo credo sia un aspetto particolarmente importante del quale adesso ci parleranno ovviamente matteo antonio che hanno coordinato insieme a rocco lombardi che è importante ricordare come coordinatore degli illustratori un lavoro anche quello enorme assolutamente fondamentale per la riuscita del volume e ecco quindi lascio la parola per intanto a matteo e antonio per esporre dal loro punto di vista la genesi la natura di questo progetto e in qualche modo anche l'esito anche se devo dire loro non hanno ancora la copia cartacea e in uscita arriva il 27 di ottobre in distribuzione noi ce l'abbiamo noi ce l'abbiamo giorgio della confrateria in gran quantità e abbiamo volevo solo fare un breve appunto certo a noi che siamo in visione e sul sito di book pride compaiono tutti i commenti delle persone sono sono tantissimi che ci salutano e al momento pensavo che comparissero anche a noi su zoom quindi li vediamo solamente tramite il sito di book pride quindi se qualcuno vuole rispondere a qualche domanda e quant'altro troverete lì le domande a benissimo ecco li vedo d'accordo volevo una piccola aggiunta abbiamo deciso di in ogni caso passare attraverso la confraternita dell'uva per lanciare un segnale per quanto riguarda le librerie in particolare noi abbiamo dato in anteprima prima ancora che in distribuzione un certo numero di copie proprio alla confraternita dell'uva scelta fra le tante librerie che sono nostre partner ma con loro abbiamo un rapporto che comincia a essere ormai consolidato e per il quale insomma vogliamo abbiamo voluto come dire dare un segnale in questo momento difficile e di conseguenza in questo momento potete prima di tutto acquistare trovare tina passando attraverso la confraternita dell'uva con la consegna a domicilio attraverso book dealer o attraverso anche il servizio di book pride ancora fino a stasera detto questo passo la parola a matteo o antonio e o antonio antonio cominci tu io posso raccontare velocemente anche perché è stato un processo veloce come ci è venuta l'idea la genesi qualcuno già già detto la genesi niente avevamo già aperto il blog arrivato a tutto punto credo di aver letto un l'ultimo libro di jared diamond questo libro faceva un'operazione simile anche se molto diversa secondo me un po criticabile ma non importa e con alcuni scenari lunghi tutti al servizio ovviamente di una sua tesi ho pensato dobbiamo fare una cosa simile ma senza avere una tesi particolare noi stavamo discutendo di immaginario ne abbiamo discusso per un bel po questo è un lavoro che noi facciamo blog ma ne discutiamo no molto la nostra chat interna discutiamo anche la storia del grande romanzo collettivo dell'antropocene che cos'è il romanzo collettivo diffuso dell'antropocene è una storia qui davvero tutti partecipano ed è oggi è particolarmente evidente questo questo che poteva questa che poteva sembrarci un anno fa un esercizio teorico e retorico oggi è qualcosa che vedi uscendo da casa si partecipa e si partecipa in un certo senso si può partecipare come semplici passanti nel survivalismo si chiama zombie chi per esempio non è pronto alla catastrofe la catastrofe in arrivo sta succedendo e e tu non la vedi e ti muovi cerchi di vivere come se nulla fosse cambiato poi una delle soluzioni per non essere zombie secondo noi era quella di ok immaginare non è un esercizio di pessimismo perché tiene pieno di storie di speranza di di progresso di sviluppo anche ecco che comunque immaginare qualcos'altro quello che poteva succedere o che era già successo era per noi uno strumento teorico principale per immaginare per gestire l'antropocene ecco che noi parlavamo del romanzo diffuso a cui tutti partecipano si è incontrata con la storia che ok cominciamo a scrivere noi qualche scenario su alcuni eventi e così io ho proposto Matteo Matteo ha detto sì sì rifaccio rifaccio subito Matteo è molto veloce a scrivere è molto veloce a scrivere ovviamente se c'è una piattaforma culturale comune e subito dopo lui mi ha detto ok ma facciamolo fare anche ad altri e subito dopo ancora ok ma se parliamo di romanzo diffuso e di immaginario le due cose vanno insieme sono ineliminabili tutto questo in una chat e allora facciamo facciamo un'altra cosa facciamo un bando chiamiamo gli altri vediamo come perché come vediamo certe cose io e lui lo sappiamo ne possiamo discutere c'è una dialettica ma ecco appunto non c'è un interesse su come vediamo perché sappiamo come vediamo alcune questioni dobbiamo vedere cosa vedono gli altri gente che non conosciamo fuori dalla bolla ecco perché non c'era la chiamata non c'era non era un libro che prevedeva di chiamare una persona stimata ma che non conosciamo un amico o qualcuno che vogliamo conoscere la questione doveva essere se era un esperimento doveva essere aperto libero buttiamo giù gli eventi una lista di eventi pubblichiamo e poi è successo è successo quindi senza una secondo me una vera comprensione di quello che stavamo davvero facendo stavamo unendo due parti di una teoria informazione e noi proprio abbiamo detto ok buttiamoci nella pratica non non ne parliamo troppo non iperconcettualizziamo vediamo cosa succede abbiamo messo la lista di eventi online non so è successo quando io dico poi che il tattilo scritto di tina che cresceva pian piano era qualcosa che si avevamo teorizzato ma che non aveva non potevamo immaginare che venisse questo è la verità non lo sapevamo ci siamo lanciati questa è la questo è l'eziologia delle idee non c'è erano due idee di due tizi che parlavano in chat che ogni tanto scrivevano su un blog e che poi è esplosa in qualche modo vuol dire che la questione che l'immaginazione è una cosa è una un tool diffuso che è un'ovvietà da dire però andava testata e questo è Tina il resto continua Matteo io posso solo dire questo sono sorpreso del risultato perché non era per noi cogitabile quello che poi si sarebbe realizzato perché era fuori dal nostro controllo sì in effetti è successo proprio proprio questo la cosa che a me ha stupito è che avevamo appunto fatto questa lista di possibili scenari e il bando consistevi in questo voglio dire siete interessate siete interessati volete partecipare a questa cosa scegliete uno scenario e scrivete innanzitutto scrivete significa se vi va di scrivere non perché siete scrittori ma semplicemente perché noi crediamo che il discorso dell'immaginario e soprattutto dell'immaginario collettivo sia qualche cosa che ha a che fare anche con chi non arriva con delle reali competenze e con un pedigree diciamo così da scrittore per cui infatti ci siamo stupiti della risposta molto forte con persone che venendo da mondi e ascoltando cose completamente diverse sono arrivati ad accettare una proposta che sembrava completamente campatinaria ma la cosa che mi ha stupito è che eravamo in forse se lanciare il bando il sabato che corrispondeva al momento degli eventi clou del festival di Mantova e quindi non volevamo come dire eravamo un po' scettici sul fatto che sarebbe stato il momento giusto per farlo poi invece abbiamo detto ma lanciamolo lo stesso non preoccupiamoci anche se probabilmente la testa delle persone è rivolta ad altro in questo in questo momento e invece nell'arco di 24 48 ore i scenari erano stati già affidati a persone di cui noi conoscevamo forse il 15 per cento dei nominativi tutti gli altri tuttora non sappiamo chi sono ma il principio è stato quello di una totale apertura nel senso che chiunque volesse partecipare è entrato nel progetto Tina e il suo testo è nel libro punto quindi questa era la cosa per noi veramente importante poi è chiaro ognuno è arrivato con le proprie capacità e c'è stato come dire non un grosso lavoro di editing c'è stato semplicemente un aggiustamento laddove il testo lo richiedeva per ragioni puramente meccaniche ma non c'è stata nessuna invadenza da parte nostra o degli editor della casa editrice nel voler trasformare le cose consapevoli del fatto che alcuni testi funzionavano benissimo altri meno bene ma l'importante era riuscire a raccogliere un paniere di immaginario non prevedibile e poi a questo punto è anche successo qualcosa che mentre il progetto era avviato e comincevamo già a ricevere i primi testi ci ha contattato Rocco Lombardi che chi lo conosce uno dei comunque dei più dei più grandi interessanti illustratori nel panorama italiano e che ci ha detto ma sapete che secondo me bisognerebbe allargare il progetto anche ad altri illustratori e noi gli abbiamo detto guarda noi già ci stiamo mettendo le mani nei capelli non io sicuramente un po' Antonio Vena ma non sapremmo gestire questa cosa lo vuoi fare e lui spontaneamente prendendosi una gatta da pelare anche abbastanza complessa ha fatto un lavoro eccellente ed è riuscito a coordinare un team chiamiamolo così di 54 illustratori che come gli scrittori hanno scelto di illustrare alcuni scenari e alla fine poi si trattava di mettere assieme tutto il materiale e forse qui voglio dire anche perché forse meglio fare una narrazione delle cose magari l'editore può raccontare il suo punto di vista quello che è successo la sua esperienza nel momento in cui gli abbiamo dato in mano un mallocco che era assolutamente folle sì folle un vero e proprio rizoma testuale che andava in tutte le parti noi abbiamo deciso in realtà in un qualche modo di dargli forma organizzandoli in giornate ovviamente pensando alle giornate del Cameron del Boccaccio che prima che arrivasse la pandemia avevamo scelto come autore d'esergo già per introdurre la cosa poi dopo che tutti quanti hanno usato Boccaccio l'hanno citato nel periodo soprattutto dell'inizio del lockdown ci siamo chiesti ma lo teniamo certo lo teniamo perché è comunque significativo non tanto per il discorso della peste ma per il discorso della frase che abbiamo scelto parla del crollo cognitivo che era la cosa per noi per noi importante quindi ecco se magari vuoi dire qualche cosa sì ne approfitto anche perché diciamo il mio punto di vista su questo aspetto ha a che fare anche con una delle domande che per ora sono arrivate nella chat di Bookpride Francesca Maccani ci chiede come siete riusciti a racchiudere in un volume tutte le voci e il sentire di più di 100 autori beh come appunto diceva Matteo in sostanza questo lavoro è un sismografo una specie di elettroencefalogramma non abbiamo assolutamente cercato di uniformare tramite l'editing le voci degli autori abbiamo cercato di dare un senso attraverso ad esempio la strutturazione nelle sette giornate come ovviamente sanno Antonio e Matteo ci sono stati ci sono state delle riflessioni sulla struttura da dare a questo libro a questo magma testuale ci sono state delle riflessioni sulla divisione sull'ordine cronologico alla fine ragionando tutti insieme ci siamo convinti della necessità di restituire quanto più possibile la spontaneità appunto quasi come dire di questa attacca che abbiamo fatto all'immaginario e a quel momento preciso storico che casualmente è stato immediatamente precedente alla pandemia cioè alla fine di una di quelle finestre di pace economica climatica eccetera che per quanto riguarda il nostro mondo occidentale sembrava poteva sembrare eterna e ci stiamo sempre più rendendo conto che non è così e questo libro gli strumenti le parole i concetti le storie che sono all'interno di questo libro ci raccontano esattamente questo dal punto di vista strettamente personale il mio impatto con il magma del testo con questo rizoma, con questo proliferare di sciagure, cataclismi, collassi eccetera è stato un impatto duro devo ammetterlo perché io ho ricevuto il manoscritto alla fine di febbraio primissimi di marzo in pratica subito prima del lockdown e quindi ho dovuto metterci mano e metterci la testa proprio in quei giorni che sono stati uno shock, uno shock cognitivo sono stati, cioè mi sono ritrovato come dire in un certo senso protagonista del 116esimo scenario o 153esimo, adesso non ricordo di preciso quanti sono come dire, si poteva fare un ulteriore scenario dell'editor che sta lavorando a un libro sulla catastrofe ad esempio e mi sono ritrovato quindi in una sorta di vertigine per certi versi e dal punto di vista strettamente emotivo non è stato facile ho avuto delle difficoltà ad andare di catastrofe in catastrofe passare attraverso la peste di Atene del 430 a.C. vedere nel futuro perché non abbiamo ancora specificato questo aspetto ma molti degli scenari sono visioni, what if, distopie, ucronie e via di questo passo che riguardano momenti nel tempo avanti nel tempo in sostanza quindi ecco sì, dal punto di vista strettamente personale non è stato facile solo diciamo poi con l'inizio dell'estate con la fine del lockdown ho potuto riapprocciare con una maggiore serenità anche il testo quindi sì magari in una futura riedizione di Tina lo scriverò io questo 153esimo scenario di me ti avevamo chiesto di scriverlo infatti ma eravamo alla fine eravamo sì nel pieno del magma contemporaneamente scusate poi continuiamo il magma era più ordinato di quello che sembrava nel senso che tutti gli scenari l'enorme lista di scenari proposti poi abbiamo avuto un'ulteriore sorpresa quella degli scenari proposti dagli autori autori hanno detto io studio ossessivamente questo evento io ho seguo ho studiato quello che è successo quest'anno e ci hanno proposto questi eventi che erano assolutamente organici a quella scaletta che era una scaletta una scaletta di eventi studiatissima in ognuno erano già divisi in gruppi insieme alle settimane ai giorni ai sette giorni e alle sette parole chiave ecco il libro è diviso in sette giorni e in sette parole chiave ma quella lista scenari che è un magma era già studiata per provare a pescare l'immagine che uno aveva o poteva avere di quell'evento uno un'autrice o un autore era già lì studiata per tirare fuori noi noi siamo ossessionati dalla prospettiva e dall'intercettare e abbiamo fatto erano quegli scenari erano delle esche per determinate parole quindi anche per continuare a rispondere a Francesca Maccani che è un'autrice dina oltre che di altri romanzi pur se messi tutti in una linea continua pur con una molteplicità di voci che non sono state assolutamente moderate perché immoderare le voci degli autori sarebbe stato contro l'idea di questa pesca di questa prospettiva di questa ricerca di intercettare gli immaginari ecco era già lì il magma seguiva un set colate differenti scusate Antonio intervengo un secondo perché mi chiedono dalla chat le sette parole chiave quali sono le sette parole chiave vi lascio rispondere ma aggiungo che nella pagina nello stand digitale di Aguaplano su Bookpride sul sito di Bookpride c'è una corposa anteprima di Tina da scaricare un pdf in cui c'è c'è l'indice anche quindi ci sono tutte e sette le parole chiave i titoli dei capitoli con tutta la lista degli scenari e poi ci sono una trentina di pagine all'incirca quindi potete assaggiare Tina l'esito di Tina in questo modo però nel dettaglio se volete esporre tutti i concetti chiave e rispondere anche all'altra domanda magari di Ivana Castronovo che chiede cosa sperate che possa accadere invece dopo Tina molti testi come si diceva prima lasciano spiragli di speranza qual è lo spiraglio che Tina sta lasciando aperto Matteo magari vuoi rispondere tu o Antonio questa è una cosa a cui teniamo molto nel senso che la pubblicazione del libro non è una come dire la registrazione di un evento accaduto ovviamente c'è quest'idea dell'aver lasciato traccia una traccia editoriale forte di un evento che è stato un vero e proprio vissuto e una grande performance collettiva però ovviamente non ci interessava solo questo aspetto ma anche cercare di arrivare a produrre un libro che fosse un vero e proprio manuale narratologico cioè che avesse la capacità di diventare come dire uno strumento operativo un kit in cui con cui raccogliere tutta una serie non solo di immaginari possibili e quindi testimoniare di come l'immaginario collettivo si sta evolvendo su parole che fino a un anno fa antropocene insomma sappiamo bene che facevano più ridere che non tremare di attualità però quello che abbiamo pensato è che ora Tina c'è esiste il libro il libro sta uscendo non a caso in una in una zona temporale che quella di fine ottobre che noi sappiamo per chi come dire studiava già da un po' prima degli eventi gli scenari pandemici insomma la fine d'ottobre è un momento chiave e proprio in questo momento è scettina e per noi significa molto non poteva esserci tempismo migliore perché se entriamo in una in una fase dove dobbiamo disporre di risorse mentali cognitive per confrontarci con un dopo che è abbastanza difficile da prevedere è molto importante che i libri comincino a dare delle risposte e per me Tina è in questo senso le storie della grande estensione di Tina sono delle risposte perché per chi vorrà leggerlo e non so se si possa leggere dall'inizio alla fine ma bisogna probabilmente esattamente come noi abbiamo pescato nell'immaginario anche il lettore dovrà pescare voglio dire secondo una volta si parlava di ipertesto di lettura ipertestuale oggi forse magari pensiamo più ai miceli ai funghi ecco per andare avanti con un immaginario un po' un po' alla moda però si può mettere il naso dentro Tina magari anche quasi come una specie di testo oracolare di testo sapienziale per andare a pescare tutta una serie di possibilità dell'immaginario Tina contiene molte risposte se non riusciamo a immaginare il dopo se non riusciamo a immaginare il prima che è una pratica necessaria per immaginare il dopo Tina ci dice come fare e qui forse bisogna aggiungere un'informazione e cioè non c'è stata solo l'organizzazione delle storie in giornate ma ci siamo trovati con Antonio per 3-4 giorni e riguardando tutto il materiale abbiamo deciso di creare ogni tanto qualche tessuto connettivo così lo chiamavamo cioè degli interventi dei curatori che senza come dire voler per forza guidare la lettura dei singoli scenari aggiungevano erano tratti di testo elementi testuali che aggiungevano come dire alla narrazione anche qualche cosa di più vicino alla theory fiction cioè quindi ragionare su queste cose avendo presente la necessità narratologica come diceva Antonio all'inizio immaginare è necessario per creare scenari creare scenari è necessario per sopravvivere e già questo Tina lo dà e in più c'è come un altro come dire voce di fondo che abbiamo voluto aggiungere come curatori che senza sovrastare i testi però riesce in un qualche modo a arricchire il discorso proprio sull'aspetto narratologico e quindi è un manuale di scrittura Tina dove la scrittura non è solo quella di chi vuole imparare a scrivere o chi vuole migliorare ma la scrittura è quell'elemento democratico che come l'immaginario ognuno di noi dovrebbe esercitare per provare a immaginare il dopo allora c'è un'altra domanda di Roberto Conto che saluto tra l'altro il nostro autore storico ci chiede Roberto i vostri scenari hanno retto l'accelerazione di questi mesi avranno fiato a vostro giudizio per dare un passo per i prossimi allora io azzardo una risposta poi lascio la parola ai curatori ma i singoli scenari in realtà voglio dire sono fruibilissimi veramente come storie sono racconti attorno al fuoco per certi in molti casi quindi sono anche come dire esteticamente godibili e fruibili in maniera quasi anche un po' distaccata per certi versi mentre invece la lettura complessiva all'interno del progetto libro non necessariamente dall'inizio alla fine io ho letto il libro quattro volte dall'inizio alla fine e lo sconsiglio è pericoloso ve lo posso assicurare va invece letto secondo me proprio cercando queste parentele interne queste reti di consonanze anche questi attriti e sono questi attriti queste scintille che nascono dagli attriti che reggono e come il passo con l'accelerazione di questi mesi e che avranno respiro ancora a lungo e anzi come dire presuppongono o stabiliscono a mio giudizio un punto un termine di paragone per molta della produzione letteraria a venire per come la vedo io assolutamente voglio rispondere in questo senso noi abbiamo immaginato Tina come future proof vuol dire qualcosa che sarebbe riuscita a reggere uno deve pensare a cos'è l'antropoceno l'antropoceno è anche chiamata l'era della catastrofe noi la chiamiamo così la catastrofe non è una catastrofe è un un grande periodo in cui a grandi speranze e grandi possibilità ci sono molti pericoli uno di questi quello principale quello che si chiama il cocktail della catastrofe o il cocktail del collasso molte civiltà sono sparite collassate non per un singolo evento non per un singolo evento per esempio una crisi civica una grande siccità o una guerra no ma perché a una catastrofe a un disastro normalmente ne seguono alcuni altri tutti insieme questo crea il cosiddetto effetto cumulativo della catastrofe la gente non ha acqua e quindi cominciano i disordini e quindi una città va abbandonata una città va abbandonata e si perde il tessuto sociale irreparabilmente così normalmente scompaiono le civiltà non è tagliare l'ultimo albero sull'isola di Pasqua quello è un risultato di una lunga catena e allora noi Tina l'abbiamo immaginato non per un evento ma come uno strumento per affrontare l'intero antropocene cosa come pensarlo come pensare l'antropocene come pensare l'era della catastrofe è qualcosa che ti permette di valutare il tuo ambiente il flusso informativo qualunque cosa accada anche riconoscere il rischio e la possibilità questo è il senso del narratologico nell'antropocene il narratologico è una struttura una struttura ineliminabile quasi ananche rispetto a Zeus Zeus decide e ragiona ma è soggetto alla necessità ecco che il narratologico è questa necessità sono alcune cose che possono succedere e quindi succedono e non il resto sono colori e svolgimenti la pandemia di covid oggi è un incidente sarebbe potuto qualcos'altro poter accadere ecco che immaginare o concentrarsi solo su un evento avrebbe sì come dice chi ha posto la domanda reso Tina qualcosa che non avrebbe retto ma Tina non affronta un evento è lo strumento per immaginare ad affrontarli e anche per tirare fuori le energie interiori che servono per affrontarle tutte quante come possibile lontane e vicine finito Matteo vuoi aggiungere qualcosa? sì certamente che il discorso dell'attualità che supera la letteratura la distopia che diventa come dire affari quotidiani cronaca quotidiana è come dire un secondo me è un vero e proprio bias cognitivo nel senso che rischia di diventare il solito problema del tentare di dare una risposta a come fare letteratura durante e dopo la pandemia e quest'idea che la pandemia possa far invecchiare dei libri che possa far invecchiare delle prospettive è una diciamo è un discorso corretto è una giusta è una giusta preoccupazione ma molto prima che accadessero le cose perché la pandemia stava arrivando quando abbiamo congedato il materiale di Tina che era che era pronto e quindi non è stato lavorato durante la pandemia se non per farlo diventare un libro ma tutto ciò che è contenuto del libro è stato scritto prima del lockdown e quindi questo diciamo non c'è stato un un problema di di come dire la pandemia non è stato un problema era semplicemente uno scenario tra i tanti possibili discusso magari in un pezzo che dove parla come dicevi prima della peste di Atene o qualunque altra cosa perché per noi non non anche se era lì nell'aria lo sapevamo era semplicemente uno dei degli elementi uno degli ingredienti del cocktail e non il cocktail principale quindi si capisca che esista questa preoccupazione dell'invecchiamento rapido delle distopie si potrebbe parlare a lungo di questo noi con Antonio abbiamo già parlato in modo abbastanza drastico categorico sul fatto che la distopia soprattutto nella declinazione italiana sia un genere morto già prima di cominciare ci sono stati tanti interventi interessanti su come scrivere o soprattutto perché non scrivere della pandemia lasciando come dire passare un po' di acqua sotto i ponti e quindi prendere quella reculcola prospettiva arretrata per parlare di certe cose ma diciamo questi per noi sono dei non problemi perché fin da subito noi avevamo impostato il progetto Tina su una durata molto più lunga e ci interessava che potesse funzionare come un libro che potrà essere letto tra trent'anni e non tra tre mesi c'è un'altra domanda chiedono chiede Rebecca Rovoletto di spiegare la scelta del titolo diciamo il sottotitolo posso azzardare a spiegarlo io storie della grande estinzione diciamo pone l'accento prima di tutto sul concetto di storia di fatto questo libro qui è un romanzo di racconti come va di moda definire alcune alcune alcuni prodotti editoriali chiamiamoli così con terminologia industriale mettiamola in questo senso è un romanzo di racconti tecnicamente perché sono racconti inseriti all'interno di una cornice di una di una serie di connettivi che restituiscono un senso complessivo e generale chiaramente nella sua natura è molto più vasto e molto più ampio di un di un semplice romanzo di racconti l'abbiamo spiegato finora la grande estinzione è la prospettiva generale all'interno della quale si pone questa riflessione la prospettiva della possibilità dell'interruzione della finestra di pace climatica economica eccetera di cui abbiamo anche qui ampiamente parlato mentre invece per quanto riguarda Tina lascio ai curatori la spiegazione chi è Tina? a te Tina prima che essere un acronimo se volete ne parliamo ma in seconda istanza Tina Tina Fontaine che era una ragazzina nata in Canada una nativa americana che fa parte del numero di moltissime donne e bambini scomparsi o uccisi o vittime di violenza che appunto all'età di 14 anni è stata uccisa una vita stroncata una voce che non ha più parlato e quindi la nostra idea ma con molto garbo con tutte le cautele del caso senza nemmeno parlarne troppo perché poi diventano proclami come dire retorici però diciamo che l'ispirazione iniziale è stata questa è stato il nome di questa bambina e di questa voce che non c'è più e che in una dimensione collettiva volevamo come dire provare ma molto timidamente a restituire a vendicare e anche a vendicare e poi ovviamente Tina è anche un acronimo che rovescia completamente l'altro grande acronimo reso popolare da Margaret Thatcher cioè there is no alternative non c'è alternativa la cara Margaret lo diceva con riferimento al neoliberismo e quindi a un modello economico che dal suo mandato dagli anni Ottanta è poi diventato come dire la norma nel modo di concepire non solo l'economia purtroppo anche la cultura per cui noi abbiamo parlato abbastanza per primi direi in Italia di romanzo neoliberista ecco Tina è l'alternativa radicale al romanzo neoliberista e l'idea è che appunto there is no alternative nel senso che se continuiamo a essere neoliberisti non c'è più non c'è alternativa non avremo alternativa e quindi finirà tutto ciò di cui in cui crediamo far sopravvivere un'antropologia un modo di essere donne e uomini oggi che è sicuramente a rischio bene io credo che il tempo a disposizione sia terminato mi prendo chiedono il problema di Grendel cosa si intende per problema di Grendel credo che la risposta sia abbastanza articolata e per questo rimandere per la risposta rimanderei proprio al sito risponderemo sul blog risponderemo sul blog molto presto l'abbiamo già fatto perché è davvero una risposta molto complicata Grendel è un grandissimo problema affrontato da alcuni autori noi volevamo i siti di riferimento sono due la grande estinzione e appunto il problema di Grendel che affrontano queste tematiche da due punti di vista uno più narratologico e uno più saggistico mettiamola così adesso per semplificare abbiamo veramente terminato il tempo ci chiedono se è prevedibile un Tina 2 beh ci sono altri so che Matteo e Antonio hanno altri progetti collettivi di natura assimilabile per qualche per qualche verso però devo dire che a novembre a metà novembre fine novembre partiremo con un altro grosso progetto collettivo ecco ecco quindi seguiteci seguiteli seguite questi due siti io ringrazio si potrebbe scusate proprio in extremis ricordare se può farlo Giorgio che la compagnia dell'uva la confraternita scusate la confraternita dell'uva sta come dire si sta offrendo come piattaforma per la vendita del libro e quindi sarebbe importante ricordarlo infatti nella conversazione nella chat Giorgio ha inserito il link all'acquisto su book dealer alla pagina della libreria quindi sapete dove reperire in questa primissima fase il libro io ci tengo a ringraziare Raffaele Marciano che è il fondatore di Aguaplano e il mio socio che ha appoggiato entusiasticamente questo progetto anche se lui è stato impegnatissimo a seguire tutta l'altra parte editoriale che riguarda Aguaplano noi siamo una casa editrice specializzata in arte e quindi lui è potuto intervenire nella lavorazione del libro solo verso gli ultimissimi passaggi e infatti per questo progetto voglio ringraziare anche l'agenzia editoriale Sette Piani e le amiche sono Elena Zuccaccia e Costanza Lindi che ci hanno dato una grossissima mano nella lavorazione di questo libro grazie ancora a tutti i partecipanti grazie a Giorgio grazie a voi grazie a tutti per l'ospitalità e a Matteo e Antonio davvero grazie mille lunga vita a Tina ciao a tutti ciao